Buongiorno a tutti, sono l'avvocato Stefania Infantino, consulente in organizzazione Performance PA e oggi vedremo insieme gli aspetti tecnici operativi dell'utilizzo di Telegram in udienza. Innanzitutto cos'è Telegram? Telegram è un'app di messaggistica istantanea gratuita simile a WhatsApp che, a differenza di quest'ultima, consente la creazione di canali. I canali sono uno strumento con cui è possibile in modo unidirezionale inviare messaggi a un numero illimitato di iscritti. Gli unici a poter scrivere nei canali sono gli amministratori, che nel nostro caso saranno esclusivamente i giudici o il personale di cancelleria. Infine Telegram è fruibile da qualsiasi dispositivo, quindi smartphone, tablet e computer. Vediamo adesso come scaricare Telegram sul cellulare. Per prima cosa, a seconda del proprio dispositivo, bisognerà accedere all'App Store o a Google Play. A questo punto, sia per i dispositivi iOS sia per i dispositivi Android, bisognerà scrivere nel campo di ricerca la parola Telegram e cliccare successivamente su ottieni, ovvero su Istagla. Partirà a questo punto una procedura per la configurazione, che è praticamente identica sia per i dispositivi iOS che per i dispositivi Android, e per prima cosa bisogna cliccare su inizia a messaggiare. Bisognerà quindi inserire il proprio numero di cellulare a cui Telegram invierà un messaggio contenente un codice OTP per la verifica del dispositivo. Bisognerà quindi inserire il proprio nome e cognome e volendo è possibile associare una propria foto personale. Telegram a questo punto chiederà una serie di autorizzazioni. La prima riguarda l'accesso ai propri contatti, la seconda riguarda invece la possibilità di ricevere delle notifiche. Terminata la fase di configurazione, avremo davanti questa schermata generale, da cui sarà possibile effettuare la ricerca dei canali, andando a scrivere nel campo di ricerca presente nella sezione chat il nome del canale di nostro interesse. Vediamo adesso come viene utilizzato Telegram in udienza. Sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Messina sono riportati tutti i nominativi dei giudici che hanno attivato i canali Telegram per la chiamata in udienza. Inoltre, in prossimità delle aule troverete dei volantini Telegram, come questo raffigurato, in cui sono presenti le indicazioni essenziali per unirvi ai loro canali. In particolare all'interno del volantino troverete un QR code e le indicazioni per scaricare Telegram, il nome del giudice e del canale, un QR code per la ricerca veloce del canale e infine delle brevi istruzioni sull'utilizzo di Telegram in udienza. In ogni caso, anche autonomamente, è possibile verificare la presenza di canali attivati dall'ufficio giudiziario di nostro interesse. Ad esempio, potremo voler controllare tutti i canali attivati dall'ufficio del giudice di pace di Messina. In questo caso, nel campo di ricerca, dovremo scrivere l'abbreviazione dell'ufficio giudiziario, la sigla della località, la sigla della sezione, del settore e infine inserire il cognome del giudice di nostro interesse. Una volta selezionato il canale di nostro interesse, bisognerà cliccare in basso su Unisciti per ricevere le notifiche ogni volta che viene inserito un nuovo messaggio. Vediamo adesso cosa troveremo all'interno dei canali Telegram attivati dall'ufficio del giudice di pace di Messina e dal Tribunale di Messina. Per prima cosa, in alto, troveremo sempre un messaggio fissato, cioè che rimarrà sempre visibile, in cui sono presenti delle brevi istruzioni sulla chiamata in udienza. Almeno il giorno prima dell'udienza, invece, troveremo caricato il ruolo d'udienza e delle informazioni rispetto all'ubicazione dell'aula. Il giorno dell'udienza, invece, il giudice invierà dei messaggi relativi alla chiamata in udienza. Come è possibile vedere, i procedimenti verranno chiamati secondo l'ordine progressivo e non con il numero di ruolo. Vediamo adesso qualche chiarimento rispetto alle modalità di utilizzo della chiamata in udienza con Telegram. Innanzitutto, il giudice potrebbe utilizzare il canale per comunicare eventuali ritardi o impedimenti. L'avvocato, invece, non può utilizzare il canale Telegram per scrivere al giudice o la cancelleria. Infatti, come abbiamo visto all'inizio, il canale Telegram consente una comunicazione unidirezionale e gli unici soggetti abilitati alla scrittura sono il giudice o la cancelleria. Il canale può essere silenziato e riattivato a seconda dell'interesse, quindi l'avvocato una volta terminata l'udienza può tranquillamente silenziare il canale e riattivare lo stesso in caso di nuovo utilizzo. Tutti gli aggiornamenti sui canali attivati sul progetto Telegram saranno pubblicati sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Messina.